guarda la prima cosa che ti voglio dire proprio d'impatto per cominciare questo video è non ti fidare di chi ti dice che puoi portare un coltello in giro con serenità se è lungo un centimetro due centimetri un dito tre dita quattro dita una falange eccetera queste sono considerazioni assolutamente superate dalla normativa di riferimento dalla giurisprudenza per questo se vuoi sapere di più sul tema del porto di coltelli anche con riferimento ai classici coltellini svizzeri quelli in multifunzione per intenderci continua a guardare questo video ciao io sono giuseppe sono un avvocato penalista ed oggi ti farò comprendere se e quando è lecito portare con sé un coltello prima di andare avanti con il video però se ti piace questo genere di contenuti e vuoi essere aggiornato sulla pubblicazione di nuovi video lasciami un like ed iscriviti al canale attivando la campanella ciao e buona visione prima ancora di cominciare facciamo una distinzione chiara e precisa sui vari concetti di arma che esistono nel nostro ordinamento e la prima distinzione è tra armi da sparo e armi bianche conosciute anche come armi da punta e da taglio se ti dicessi mitragliatrice cannone bazooka tu avresti un'idea precisa delle cose di cui ti sto parlando cioè ti ho menzionato strumenti che in maniera specifica definiscono il concetto di arma da sparo nel concetto di armi bianche invece rientrano tutte le altre tipologie di arma la cui destinazione è pur sempre l'offesa alla persona ai sensi dell'articolo 30 del TULPS ma che concettualmente non producono lo sparo quindi parliamo di coltelli di spade eccetera però questa è solo una prima distinzione perché se tu pensi alle armi da sparo immediatamente colleghi quello strumento per esempio una pistola all'offesa della persona perché la funzione naturale la funzione propria di quell'oggetto è quella di attentare all'incolumità delle altre persone ma questa naturale propensione di tali strumenti di offesa individua il concetto di arma propria che si distingue da quella di arma impropria perché la funzione propria la funzione tipica di quelle armi è quella di offendere le persone quando invece parliamo di armi improprie noi ci riferiamo a strumenti che non necessariamente servono a recare offesa a qualcuno ma che possono diventarlo se noi decidiamo di utilizzarlo in questo modo non a caso è lo stesso TULPS che all'articolo 45 definisce il concetto di arma impropria quando facciamo riferimento agli strumenti da taglio e da punta per il TULPS infatti sono da considerarsi armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona come pugnali stiletti e strumenti simili mentre invece non sono considerate armi per gli effetti dello stesso articolo gli strumenti da punta e da taglio che pur potendo occasionalmente servire all'offesa hanno una specifica e diversa destinazione come gli strumenti da lavoro quelli destinati ad uso domestico agricolo eccetera immagina uno chef o un macellaio che deve necessariamente possedere i suoi coltelli o un giardiniere che deve possedere le sue forbici per spuntare le siepi oppure l'accetta per abbattere rami e tronchi d'albero ecco ti renderai conto da solo che questi strumenti le forbici da giardiniere che sono dei bei vezzi di forbici l'accetta i coltelli da macellaio sono certamente degli strumenti idonei ad offendere una persona ma la loro funzione propria non è certamente quella di attentare all'incolumità delle persone da questa breve introduzione dovresti aver capito che non sono le dimensioni che contano quando parliamo di coltelli o di spade a determinare se questi oggetti possano essere definiti armi proprie o improprie ma la loro destinazione naturale all'offesa di una persona concettualmente se tu vedi una sciapola come questa che ti sto facendo vedere in questo frame è evidente che ci troviamo di fronte ad un'arma bianca perché è un'arma da taglio e per di più è un'arma propria e invece nonostante le dimensioni potrebbero in astratto essere le stesse un macete come questo che ti sto facendo vedere in questo breve frame di video non è considerato un'arma propria perché la sua destinazione naturale la sua funzione propria non è quella dell'offesa alle persone ma è servente ad un'attività di tipo agricola come quella che abbiamo visto nel breve frame che ti ho proposto e però il discorso diventa un po' più complesso nell'analisi relativa ai coltelli e pugnali perché ce ne sono di infinite tipologie tutte diverse tra loro per quanto con caratteristiche molto simili e allora l'impegno della corte di cassazione è stato quello di individuare gli elementi le caratteristiche di un coltello perché possa essere definito a seconda dei casi arma propria o arma impropria per chi cambia radicalmente la disciplina ma anche eventualmente le sanzioni rispetto al possesso e al porto di questo tipo di strumento e le caratteristiche individuate perché un coltello possa essere ritenuto un'arma propria sono di fatto 3 1 la punta acuta 2 deve avere il taglio su entrambi i lati quindi una doppia filettatura sia da un lato che dall'altro del coltello 3 impugnatura e lama devono essere rigidi come un qualunque pugnale oppure se guardiamo i coltelli a serramanico con la lama estraibile per intenderci devono avere un sistema di blocco tale cioè da bloccare il rientro della lama subito dopo la sua estrazione tutti e tre questi elementi devono sussistere contemporaneamente la loro sussistenza determina la qualificazione di questi strumenti come armi proprie ciò a prescindere quindi dalle dimensioni dell'oggetto in sé l'acquisto di oggetti di questo tipo è consentito solo a chi è autorizzato e solo presso armerie abititate alla vendita di questi strumenti e l'autorizzazione di fatto o nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi proprie armi che comunque dovranno essere dichiarate denunciate entro 72 ore dall'acquisto e la nulla osta attenzione non consente il porto dell'arma al di fuori della propria abitazione perché per questo è necessario un altro tipo di titolo abilitativo cioè un vero e proprio porto d'armi e questo significa nella sostanza che per quei coltelli che abbiano le tre caratteristiche che abbiamo elencato poco fa vale a dire la punta acuta la doppia lama il sistema di bloccaggio manico lama non sarà possibile né acquistare né tenere ovviamente tanto più portare fuori casa senza titoli abilitativi per questa ragione se un coltello non ha una punta acuta oppure non ha un sistema di bloccaggio o ancora non ha una doppia lama può essere liberamente venduta acquistata ciò di fatto significa che oggetti di questo tipo possono essere liberamente tenuti nella propria abitazione senza che ciò configuri alcuna violazione discorso però parzialmente diverso riguarda il porto al di fuori della propria abitazione perché qui è necessaria innanzitutto una prima distinzione anzi un'altra distinzione cioè quella tra porto e trasporto il porto di un'arma ancorché impropria perché noi di armi impropria adesso stiamo parlando significa avere l'immediata disponibilità della stessa ed è una cosa che accade per esempio se ce l'hai addosso in tasca nel tuo marsupio o anche in un vano della tua vettura come il cruscotto in modo che la stessa sia facilmente raggiungibile da chi ne voglia fare uso il trasporto invece a differenza del porto indica proprio un movimento dell'arma dal luogo a luogo b ed è fatto in un modo che la stessa non sia facilmente apprensibile come succede nel caso in cui la stessa sia custodita magari ecco in una sacca chiusa con un catenaccio o in una piccola cassaforte all'interno del vano portabagagli della vettura questa distinzione è necessaria perché considera per esempio il classico coltellino svizzero che trovi in vendita nella maggior parte dei negozi esso è certamente un'arma impropria e per portarla fuori dalla tua abitazione o magari nel tuo marsupio necessiti di una valida giustificazione perché altrimenti ti potrà essere contestato il reato previsto dall'articolo 4 del TULPS mentre il trasporto invece di quello stesso strumento non necessita alcuna giustificazione dalla disamina che abbiamo fatto finora abbiamo compreso che chi porta o trasporta un coltello qualificabile come arma propria senza una specifica autorizzazione rischia un processo penale ed una condanna che va a seconda dei casi fino a tre anni di arresto in base a quanto viene disposto dall'articolo 699 del codice penale ma se invece facciamo riferimento alle armi improprie il trasporto non necessita di alcuna giustificazione mentre invece chi porta per esempio un set di coltelli da cucina un coltellino svizzero con sé dovrà giustificare le ragioni per le quali si ha il possesso di questi strumenti per esempio una valida giustificazione può essere lo scontrino dell'acquisto appena realizzato in un negozio e giustifica il fatto che il possesso in quel momento è dovuto al fatto che dal negozio si stanno portando i coltelli a casa appena acquistati naturalmente oppure immagina il caso in cui si abbia con sé un coltellino svizzero ecco in questo caso una valida giustificazione potrebbe essere il fatto che si sta con tutta la famiglia e c'è tutto l'occorrente per un picnic fuori porta e un coltellino svizzero multiuso può essere sicuramente utile in occasioni come questa laddove però non si abbiano queste valide giustificazioni il rischio è un processo penale ed una pena che può arrivare fino a due anni d'arresto e fino a 10.000 euro di ammenda con questo video perciò hai compreso le differenze tra armi da sparo e armi bianche tra armi proprie armi improprie la differenza che c'è quindi tra porto e trasporto di armi improprie soprattutto quando il possesso ed il porto di un coltellino possa essere ritenuto giustificato meno e inoltre hai compreso quelle che sono le sanzioni che il nostro ordinamento ha predisposto per i casi in cui il porto risulti essere ingiustificato con riferimento soprattutto alle armi improprie tu però se hai ancora dubbi scrivimi nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un like ed iscriviti al canale per non perderti gli altri contenuti quando saranno pubblicati un saluto e a presto è il diritto penale che stai